Ciao a tutti da Davidei Z2UF. Oggi facciamo un esperimento molto semplice. Prepariamo una sondina fatta con una spira di filo smaltato e la alimentiamo con un segnale debolissimo a 431 MHz modulato in FM con una nota a 1 kHz. Mettiamo ora un FT8 117 alimentato a batteria su un piano isolato e lo colleghiamo ad una piccola antenna tramite un cavo coassiale. Il debolissimo segnale emesso dalla sonda può essere ricevuto a non più di un paio di centimetri di distanza e questo ci permette di capire esattamente quale punto del sistema stia captando il nostro segnale. Vediamo subito che, come atteso, avvicinando l'antenna il segnale comincia ad essere ricevuto dall'apparato. Ora proviamo a fare la stessa cosa con il cavo coassiale. Il cavo coassiale riceve il segnale tanto quanto l'antenna vera e propria. Il segnale viene captato benissimo anche da un filo smaltato collegato alla vite di massa. Ora proviamo a staccare l'antenna. Dal momento in cui l'antenna è scollegata, neanche le altre parti ricevono più. Basta ricollegarla ed ecco che il coassiale torna a ricevere. Ma perché avviene tutto ciò? Questo comportamento è strettamente legato al fatto che i nostri apparati, come i relativi cavi coassiali, sono sbilanciati. Parliamo proprio di questo fenomeno e della differenza tra linee sbilanciate e bilanciate su Radio Kit di aprile 2021. Non dimentichiamo che, così come entra noto da un kHz del generatore, con lo stesso sistema può tranquillamente entrare il rumore generato in casa da alimentatore a parecchi vari. Grazie per l'attenzione e 73.